Una settimana fa Angela Merkel, parlando di migrazione dell'ondata xenofoba che si sta battendo sull'Europa, ha detto che il modello tedesco ha fallito, il multiculturalismo tedesco ha fallito. Il giorno dopo, la Welt, che è probabilmente il più autorevole organo di stampa conservatore tedesco, ha scritto che l'uscita della Merkel ci fa capire che all'attuale cancelliere interessano di più i destini elettorali del suo partito, piuttosto che il progresso e il futuro della Germania. Chi vorrà più venire in Germania, operaio turco o ingegnere indiano, in un paese che non ha più rispetto della sua persona? Questo una settimana fa. Due settimane fa, alcuni nostri amici, tra cui Walter Veltroni, hanno presentato all'Assemblea nazionale di Varese un documento sull'immigrazione, in cui si dice che venire in Italia non è un diritto, ma un privilegio. E propone, di conseguenza, la cittadinanza a punti, sposando, immaginando con arroganza intellettuale di nobilitarla, l'ideologia assimilazionista. Ecco, io chiedo oggi a voi, qui a Cortona, area democratica, si vuole assumere la responsabilità politica di dire, magari prima che lo faccia, come è accaduto in Germania, qualche fondazione culturale di destra, che quel documento, quella proposta di Veltroni, non è moderna, ma è sbagliata. Abbiamo il coraggio di dire questa cosa. Sappiamo che questa è la nostra linea, che quella non è la nostra risposta al problema, ma è una scimmiottatura scadente delle posizioni della destra, della PDL e della Lega, depositate in discussione oggi in Commissione Affari Costituzionali. E cerco di spiegare perché è sbagliata, perché non è nostra, perché non ci può appartenere. Lasciando perdere per brevità il dibattito culturale sul multiculturalismo, anche se non farebbe male conoscere la differenza che c'è tra multiculturalismo, multicomunitarismo, intercultura, partiamo da qualche dato concreto. L'intervento che mi ha preceduto ci ha fornito uno spaccato concretissimo, che ci deve fare riflettere. Ma io vi do qualche dato di più, semplicissimo, banalissimo, alla portata di tutti. L'Europa cento anni fa aveva il 17% della popolazione mondiale. Oggi l'Europa ha il 7% della popolazione mondiale. Nel 2050 avrà il 5% della popolazione mondiale. Oggi, in questo preciso momento, in questi giorni, l'ONU ci dice che sono 20 milioni le persone a rischio di morte per fame in Etiopia, Somalia, Kenya, cioè in una porzione piccolissima del mondo. E questa condizione scatena la forza più elementare e inarrestabile che esista al mondo. La forza della disperazione, la forza della miseria, l'istinto di sopravvivenza di chi scappa dalla fame e di chi scappa dalla morte. Potrei continuare con gli esempi, con i dati concreti, ma mi fermo. Il motore inarrestabile che spinge l'immigrazione è alimentata da questi fatti, che innescano un processo di meticciato di civiltà e cultura, come l'ha chiamata il cardinale Scola, patriarca di Venezia, il quale ci ricorda che questo mescolamento, questo meticciato, è un processo in atto, non è una scelta. E' un processo in atto. Proprio perché non è una scelta, fa paura. E noi dobbiamo fare i conti con la paura, che è una cosa seria, anche se non è una dimensione nuova. Jean-Paul Sartre inchiodava alle sue paure la cultura occidentale quando diceva «l'inferno è l'altro». C'è un bellissimo libro di Dominique Moisy, che chiama «Geopolitica delle emozioni», che ci fa capire che le frontiere emotive del mondo sono diventate importanti quanto le sue frontiere geografiche. Allora dobbiamo fare i conti con la paura, ma dobbiamo farli con la nostra cultura, con i nostri termini di interpretazione, con i nostri valori di interpretazione. La cultura della destra xenofoba europea persegue l'obiettivo di alimentare una sorta di panico morale, cioè il tentativo di concentrare l'attenzione su condizioni, su episodi, su gruppi di persone che vengono considerate come una minaccia ai valori e agli interessi della società, facendo credere che la soluzione sia il governo della paura, e cioè che si debba rinunciare ai diritti in nome della sicurezza. E guardate che è proprio questo governo della paura, questo terrorismo legislativo, che è il vero attentato alle democrazie occidentali, perché quando la democrazia predica valori e principi che non pratica, che non sa praticare, che non vuole praticare, perde la propria autorevolezza morale, la propria capacità di essere un modello credibile. Ora la paura, e la nostra risposta a questa paura, che deve essere duplice sul piano delle proposte concrete, delle politiche concrete e sul piano dei diritti. Per quanto riguarda la parte delle proposte concrete, io mi rifaccio per questioni di tempo le cose bellissime che ha detto ieri Del Rio e il sindaco di Reggio Emilia, ricordando una cosa però, una cosa molto importante, che per fare quelle politiche del Rio, come i molti sindaci del Partito Democratico, che sono protagonisti di integrazione, hanno bisogno di risorse. E l'unica cosa certa, mentre il federalismo fiscale si dimostra essere sempre di più una burla, una bufala, l'unica cosa certa è che nei prossimi due anni regioni, province e comuni avranno 13 miliardi di euro in meno, il che significa 13 miliardi di risorse in meno per queste politiche. Allora voi capite che se da un lato il governo Berlusconi fa la faccia feroce e dimostra in qualche modo la sua vocazione sicuritaria, dall'altro è il principale creatore di clandestinità e di clandestini nel nostro Paese. Non solo di clandestini, ma anche di anime morte, perché quando ti impediscono l'iscrizione anagrafica, come è stato ricordato poco fa da Laura Boldrini, tu crei delle anime morte, crei dei soggetti che non sono uomini, che non sono persone. Si potrebbero dire molte altre cose, ma ricordiamoci di quello che ci ha detto del Rio ieri e ricordiamoci che per fare quello che ci ha detto del Rio ieri c'è bisogno di risorse e soprattutto non c'è bisogno di quelle leggi che il governo Berlusconi da due anni a questa parte, sotto la regia occhiuta della Lega, sta mese dopo mese portando avanti. Guardate, loro non hanno fatto un provvedimento unico che può essere definito brutalizzante, c'è stato uno stilicidio di azioni, una norma qui, una norma lì, l'applicazione di una direttiva comunitaria in modo più restrittivo che in tutti gli altri Paesi europei, viene di questo passo. Ma mi voglio concentrare sull'altra questione che è stata meno affrontata nel nostro dibattito in questi giorni, e cioè sull'aspetto dei diritti, di come ci si può difendere senza rinunciare alle ragioni dei diritti della paura. Non occorre avere letto Robert Dahl per sapere che una democrazia non si riduce solo ai processi politici, ma è necessariamente anche un sistema di diritti fondamentali. E tutti i diritti fondamentali sono le leggi del più debole, immigrato, rifugiato o italiano che sia. E allora credo sia arrivato il tempo di riprenderci la responsabilità della nostra culura, riappropriandoci del grido di dignità che fu pronunciato nel 2003 negli Stati Uniti d'America nella storica manifestazione degli immigrati per i diritti civili. Quello slogan è bellissimo e permettetemi, è il mio slogan, vorrei che fosse il nostro slogan, vorrei che fosse lo slogan del Partito Democratico. Nessun essere umano è illegale. Tanto più forte se vissuto nello spirito e nella originalità della nostra Costituzione, che assicura un'interpretazione dignitaria dei nostri diritti e contempla un ordinamento di poteri che sia funzionale alla sua garanzia e alla sua effettività. Perché i diritti, non basta proclamarli, devono poter essere esercitati. questo significa in concreto che la cittadinanza agli immigrati non è una graziosa concessione, non è un privilegio, è un diritto soggettivo che può essere attribuito a tutti coloro che lo rivendicano, che lo vogliono. La cittadinanza non come una corsa ad ostacoli, come un concorso a punti, ma come un'occasione di integrazione voluta e sostenuta, accompagnata dallo Stato. Questo richiede tempi più brevi e certi degli attuali, questo richiede pratiche trasparenti e semplici, questo richiede reciproca volontà di scommettere sul fatto che diventare italiano per uno straniero è un'opportunità per lui e per la comunità nazionale di cui diviene parte. Ma questo significa prima di ogni altra cosa che chi nasce, cresce e studia in Italia è un cittadino italiano e non è più un candidato alla clandestinità come oggi avviene per chi compie 18 anni pur essendo a pieno titolo di fatto uno di noi. Se noi non riusciamo a proclamare questo diritto elementare veniamo meno alla nostra funzione di partito democratico. Essere sensibili al rischio presente ma indifferenti rispetto al destino futuro non appartiene alla nostra storia. Aldo Moro ci ha lasciato la grande lezione che tra il realismo della preoccupazione e l'idealismo della forza dei diritti emergenti non c'è contraddizione. Sono le due facce di una stessa realtà nella quale la ricchezza del nuovo e dell'umano che avanza non deve essere soffocata ma composta. E io lo ripeto ancora una volta nessun essere umano è illegale e se facciamo nostro questo slogan allora possiamo rispondere subito qui questa sera a Laura Boldrini e dire che per noi non ci saranno e non dovranno mai più esserci respingimenti in mare perché questo è il frutto di una propaganda sicuritaria che non ha niente a che vedere con il rispetto della dignità umana e del fatto che ogni essere umano non può essere considerato illegale. Io questa lezione non l'ho dimenticata non la voglio dimenticare mi piacerebbe che fosse uno dei contributi di area democratica al partito democratico per sfidarlo ad essere se stesso sempre anche quando non è facile esserlo.